In settimana la polemica sullo stato delle strade nella provincia di Teramo con qualcuno che ha lamentato la mancanza di fondi regionali e il Presidente questa mattina era qui in Prefettura per risolvere il problema. Io ho avuto un incontro con il Prefetto e con i suoi principali collaboratori al quale ha partecipato anche il Questore e durante questo incontro il Prefetto di Teramo mi ha consegnato un dossier che fa la fotografia i principali problemi della provincia di Teramo sul piano delle strutture materiali, strade e scuole che chiamano in causa la debolezza oggi delle competenze dell'ente provincia. Io ho manifestato interesse a supportare e ad aiutare. Intanto ho chiesto anche al Presidente della provincia di Teramo come gli altri tre Presidenti di provincia di curare una progettazione puntuale sugli interventi di manutenzione e poi vediamo di recuperare il più possibile dalle economie, dai residui in maniera tale da fare intanto quello che possiamo sul territorio e poi battaglieremo con il Ministero delle Infrastrutture e quello dell'Economia per avere il seguito. Quello che è certo è che noi ci avviciniamo sia alla riapertura delle scuole, per le scuole medie di competenza delle province che all'anno diciamo invernale, alla stagione invernale con le precipitazioni atmosferiche e nevose che metteranno in tensione la funzionalità delle state provinciali, soprattutto quelle dell'entroterra e di montagna. Su questo io sto cercando, d'accordo con le province, di recuperare il più possibile le nostre giacenze da economie non utilizzate. Giornata oggi dedicata anche all'incontro con il Commissario di Tercas e Caripe, vado a dire Sora, e col Direttore Generale di Tercas, Pilla. È un incontro questo per stabilire cosa? È un incontro per fare il punto della situazione, sapendo che la Regione è un ente che rappresenta l'intero della collettività degli abruzzesi e per gli interessi degli abruzzesi la tradizione bancaria è una tradizione fondamentale per lo sviluppo e per la crescita. Qui è successo un fatto che è oggetto di attenzione e di accertamento. Noi però, anche alla luce di questo fatto, non vogliamo rinunciare ad avere un Abruzzo coltivato e curato da una tradizione bancaria che aiuti l'economia. Non vogliamo essere rinunciatari, l'Abruzzo non può essere il deserto delle banche, il deserto dell'intelligenza bancaria. Noi vogliamo concorrere, facendo il più possibile, per fare in modo che le imprese non subiscano un difetto di servizio sul piano del credito e della finanza di supporto. Sono venuto qui a dire, e oggi dirò ad alta voce, che ci fermiamo un minuto prima che finisca la cultura liberale. Ma tutto ciò che è consentito da un pensiero liberale a sostegno di una tradizione bancaria che va ritrovata, questo lo faremo come Regione. So per patrimonio di convinzioni che la banca e l'economia sono affari della società, ma le istituzioni non possono essere né sorde né cieche e disattente. In questi giorni si è parlato anche di aeroporto. Qual è la sua posizione? Quella che l'aeroporto non può conoscere ferma e posa. L'aeroporto deve continuare a funzionare e magari deve rivedere i punti di criticità sulle spese. Non può essere che produca perdite e poi un ente ripiani. Dobbiamo creare una modalità di governance e una modalità di gestione che non produca perdite ma magari si accinga addirittura a produrre utili. Su questo dobbiamo fare molto perché nella tradizione questo non c'è stato.